Siamo partiti di giorno, torniamo di sera. Siamo stati a Licata, ci sono le donne tifose e magari sono quelle che fanno turismo. Sicuramente. Carmela ha detto a me la mela? Sì, è conosciuta meglio così. Ok, ma tu viaggi perché ti segui il noto? Segui il noto, mi piace tantissimo. Lo seguirei in tutte le trasferte, in tutte le trasferte. Non è possibile delle volte, però lo farei ma volentieri. Ok. Tifosa storica? Due anni che seguo il noto, perché prima non c'ero, era a Catania. Ok, come nasce questa passione? Ci sono andata per caso, allo stadio. Perché c'è un giocatore interessante? No, 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 io sono una che ama il calcio da una vita, a Juventina. Sono andata anche a Roma a vedere la Juve, ho coronato un sogno. Ok. Ho seguito sempre il calcio, in televisione. Però hanno trovato questa realtà bellissima e quindi con l'entusiasmo che posso avere da tifosa, la seguo. Bene, da notare, Peppe, da notare che lei si è messa di profilo, perché quello è il suo lato migliore. No, assolutamente! Mi si dice cosa devo dire. Noi siamo stati in giro per la Sicilia oggi. Abbiamo visto tanti aspetti naturali. Sì. E perché le donne seguite il calcio? Anche per un discorso di turismo? Perchè è bello lo sport, non è tanto questione... Ma hai urlato in tribuna tu? Qualcosina. Hai detto delle parolacce? No, parolacce non ne dico. Sono una brava ragazza. E quindi hai usato la gestualità, vero? Sì. Soprattutto le mani? Sì. Alimortà? Perché se ne viste. Perfetto. È un posto del genere, sì. E che ne dà un'ora, 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 un'ora. E chi ne dà un'ora? Sì, anche altri, c'è sì. Il calcio è un... È un modo per sfogarsi. Ok. Gli istinti... L'istinto femminile in questo caso è stravolto. Normalmente... Sì, perché solitamente le donne devono essere quelle galanti che non dicono parola. Da quanto tempo tu segui il noto calcio? Da quanto? È serie T. Ah, se la tira, eh? E se dovesse scendere? Sì. Tu hai rischiato di non andare allo stadio quest'anno all'inizio della stagione, perché comunque... Sare andato allo stesso. Sare andato allo stesso. Sare andato allo stesso. Ovviamente, non posso mancare. Lo urdi un qualcosa di molto femminile, istinto da stadio? Qualcosa? Ah! Ma gli mortaggi! Ah! 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 Ah!